Covid nel Vesuviano continuano a calare drasticamente i contagi. Bilancio in pareggio ieri a Torre del Greco dove sono stati certificati 4 nuovi casi di contagio e 4 cittadini guariti. Il bilancio rimane quindi fermo a 51 torresi ancora positivi di cui 11 ospedalizzati e 40 in isolamento domiciliare. Contagi in calo anche a Torre Annunziata dove è stato registrato solo un nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 72 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta all'1,39%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 17 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 22.501. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 5.862 mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 16.639. La percentuale è pari al 40% calcolata sul numero delle prime dosi il rapporto ai 41.355 residenti.